Va al portoghese Ruben Guerreiro la tappa numero 9 del Giro d'Italia con partenza da San Salve e arrivo sulla Remogna prima delle due frazioni che riguarderanno la nostra regione e che vedrà domani il gruppo ripartire da Lanciano per arrivare a Tortoreto Lido. Dopo 5 ore e 41 minuti con condizioni meteo assolutamente poco confortevoli, il lusitano della Education First ha avuto la meglio sullo spagnolo della Ineos Grenadier, Jonathan Castroviejo, due degli attaccanti di giornata che il gruppo ha lasciato arrivare sul traguardo in una giornata senza troppi scossoni di classifica ma che ha visto negli ultimi metri quando Guerreiro stava già festeggiando il successo la piccola defiance di Vincenzo Nibali che non è riuscito a tenere le ruote di Wilco Kelderman e Jakob Fulsang, due dei principali rivali in classifica del siciliano. Ha arrivato rispetto al 2 a 19 secondi con Kelderman che consolida la seconda piazza a 30 secondi dal primato in gradatoria e con il danese della Stana che si avvicina allo stesso Nibali. Tra loro e il corridore della Trek Segafredo anche Rafa Umayka, nessun problema per l'altro portoghese, invece Joao Almeida che conferma sulle sue spalle la maglia rosa simbolo del primato e con Guerreiro che complice anche i punti sul traguardo che era anche GPM sfila quella azzurra di miglior scalatore a Giovanni Visconti della Vini Zabu. In classifica terza posizione per Peio Bilbao mentre Nibali è quinto a 57 secondi aspettando la terza e durissima settimana. Bella prova invece l'ennesima per l'australiano della Sunweb Jay Inley con un recente passato in Abruzzo nell'Aran guidata da Umberto Di Giuseppe e che dopo l'affermazione nel 2016 al Gran Premio di Capodarco sta diventando sempre più uomo da grandi corsi a tappe nonostante i soli 24 anni. Come detto oggi giornata di riposo in Abruzzo per la carovana, domani tappa di 170 km tranquilla all'inizio ma movimentata alla fine perché la parte conclusiva vedrai il passaggio a Tortoreto Alta, Gran Premio della Montagna, prima dell'altro GPM a Colonnella e poi passando da Controguerra la discesa di nuovo sul lungomare di Tortoreto. Non una frazione per veri e propri sprinter ma che potrebbe vedere ancora qualche piccolo assestamento di classifica prima della terza e decisiva settimana.